Dopo la sosta per le festività di Pasqua, il campionato di prima divisione Lega Pro si rimette in cammino questa domenica 27 aprile, in occasione della penultima giornata della regular season, nella quale il Suiterol, già matematicamente qualificato ai play-off, ospita lo stadio Druso e San Marino, penultimo della classe, in un match che avrà inizio alle ore 15. Negli ultimi 180 minuti di campionato i biancorossi puntano perlomeno a conservare l'attuale quinto posto in classifica, che regala il significativo vantaggio di giocare in casa ai quarti di finale in gara unica degli spareggi promozione in Serie B. Dopo il match casalingo col San Marino, la formazione di Rastelli concluderà il campionato Bustarsizio, dove fra due domeniche sarà ospite della Propatria. Il Suitero si era consegnato la pausa per le festività di Pasqua con la sconfitta a Vercelli contro la vice capolista piemontese, impostasi sui biancorossi per 2-0 con gol di Scavone e Ardizzone. Una sconfitta che ha interrotto una serie utile che durava da 5 partite per effetto del pareggio a Cremona e delle 4 vittorie di fila a spese di Vicenza, Ferralpissalò, Cararese e Savona. Anche in questa stagione, al pari della scorsa, il Suitero ha costruito le proprie fortune in casa, dove i biancorossi hanno conquistato ben 30 dei 43 punti complessivi, grazie ad uno score di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, quest'ultime rimediate per mano di Virtus Entella e Venezia. Contro il San Marino, mister Rastelli non potrà disporre degli infortunati italiani e dell'Agnello, mentre ritroverà in cabina di regia Pederzoli, con due fra Fink, Furlan, Vassallo e Branca, a completare il terzetto di centrocampo. In difesa Chiem e Bassoli dovrebbero comporre la coppia centrale, ma non è da escludere l'accentramento di Cappelletti e l'utilizzo a destra di Peverelli. In attacco, infine, Corazzo e Turchetta sono certi di giocare dal primo minuto, mentre Minesso e Verratti si contendono l'ultima maglia da titolare, nel tridente offensivo. Nella gara d'andata, disputatosi allo Stadio Olimpico di Serravalle lo scorso 15 dicembre, l'Istituto Rolcosse la sua prima vittoria stagionale in trasferta imponendosi con un rotondo 3-0 su San Marino, con gol del vantaggio di Dell'Agnello alla mezz'ora del primo tempo e con reti di Furlan e Corazza nella ripresa. Il San Marino occupa il penultimo posto in classifica con 23 punti, tre in più del Pavia scavalcato in classifica grazie alle due vittorie ottenute nelle ultime tre partite disputate. Due vittorie entrambe conseguite in casa, che hanno visto i titani prevalere dapprima sulla capolista Virtus Entella e poi sul Venezia.